eccoci buongiorno a tutti partiamo come abbiamo detto con il cinque minuti accademico grazie per esservi collegati a questo webinar quindi benvenuti a questo evento di control technique sicurezza integrata al nuovo paradigma della progettazione dei sistemi mi presento sono alberto taddei di contact value siamo una ci definiamo una piccola bottega di professionisti che con le loro esperienze idee supportano le attività di marketing e comunicazione di aziende come contro tecniche che operano nei settori dell'automazione industriale dell'elettronica dell'icp professionale e oggi ecco supportiamo per l'appunto contro tecniche in questo webinar dunque prima di cedere di presentarvi i relatori e di cedere loro la parola due informazioni di servizio una piccolissima introduzione le informazioni di servizio sono queste dunque voi avete un box domande dove potrete porre anche nel corso della presentazione le vostre domande che verranno poi prese in carico durante la sessione Q&A avete il microfono disabilitato diciamo in qualità appunto di partecipanti e quindi è l'unica modalità con la quale potete interagire la registrazione del webinar vi verrà poi se qualcuno fosse interessato a rivedere qualche parte vi verrà somministrata via email con un link ecco così come anche le slide che vedrete presentate oggi perfetto allora quindi veniamo al webinar di oggi che parla di una cosa molto importante appunto la sicurezza integrata no? perché diciamo la precisione nel controllo del movimento le prestazioni di un sistema di azionamento di automazione sono importantissime ma ovviamente oltre ai fattori tecnici tradizionali e lo è anche la sicurezza diciamo lo sappiamo bene già con alcune funzioni che sono integrate di standard oramai qui in Europa soprattutto dove siamo all'avanguardia ad esempio la funzione STO no? la safety torque off che consente di disabilitare il motore senza che sia necessario togliere tensione o tagliare la tensione con un teleruttore ecco però allora il concetto di sicurezza va ben oltre all'interno di quello che è un progetto complessivo di una macchina no? e ha bisogno di un approccio di natura olistica che in ottica globale proprio in ottica tecnica globale e la safety quindi così come anche altre discipline tecniche per così dire si sta orientando verso approcci per l'appunto di natura olistica integrata e non più a sé stante quindi anche da parte dei progettisti e da chi implementa e da parte di chi implementa soluzioni di automazione c'è la tendenza di guardare appunto alla sicurezza integrata la safety on board diciamo così andando oltre quello che è il classico approccio quindi quello del DLC di sicurezza della IO e vi discorrendo ma guardandola proprio in un'ottica olistica integrata ebbene ecco però cosa significa sicurezza integrata quindi quali sono i vantaggi allora lo scopo di questo webinar e adesso vi presento i relatori di cui vedete già i nomi di sovraimpressione lo scopo è proprio quello di mettere un po' in comparazione in modo ragionato questi due approcci e di scoprire quale sia il beneficio per l'appunto di approcciare il concetto di safety in maniera integrata rispetto appunto a un approccio tradizionale standard ecco quindi io invito ad accendere la camera Andrea Annunziata che è il Global Product Manager di Control Technique buongiorno Andrea buongiorno buongiorno a tutti e Giulio Carbini sempre di Control Technique Business Development Manager OEM Italia quindi proprio diciamo la persona dedicata a seguire i costruttori buongiorno Giulio buongiorno buongiorno a tutti bene io vi ho rubato giusto quei tre o quattro minuti di introduzione ma cedo ovviamente la parola a voi adesso Federica vi passerà lo schermo per la presentazione e bene io direi eccola qui perfetto che è andata in onda lascio la parola a voi io disabilito la mia videocamera e adesso il webinar è vostro magari io ogni tanto ecco così farò qualche incursione facendovi qualche domanda eventualmente su qualche slide in particolare buona presentazione bene grazie grazie Alberto allora inizio io con una breve introduzione adesso concedetemi un cappello introduttivo chiedo scusa in anticipo a chi troverà queste cose un po' scontate ma mi sembra utile inquadrare il tema della sicurezza integrata nel tema più generale della sicurezza funzionale e perché è importante nelle macchine automatiche sicurezza funzionale la possiamo definire in molti modi trovate qui una definizione abbastanza standard quindi il rilevamento di condizioni potenzialmente pericolose su una macchina o un dispositivo e l'attivazione di dispositivi o meccanismi preventivi per prevenire il verificare di eventi pericolosi concetto fondamentale è che la sicurezza funzionale riguarda principalmente scusate non tanto la protezione della macchina insieme ma la protezione delle persone degli operatori che lavorano sulla macchina e che operando quindi sulla macchina stessa possono trovarsi in pericolo di appunto subire danni, lesioni eccetera e responsabilità fondamentale di un costruttore di macchine e rendere la macchina quanto possibile sicura per evitare appunto rischi all'operatore esiste un quadro normativo abbastanza complesso soprattutto in Europa che riguarda appunto la sicurezza funzionale e tutti abbiamo un certo livello di familiarità con la direttiva macchine ma ci sono varie norme a contorno che dettagliano più appunto con precisione tutto ciò che riguarda la sicurezza trovo molto utile per inquadrare il tema e anche il processo di come si arriva a mettere una macchina in sicurezza alcune definizioni che si trovano nella norma ISO 12100 dove la gestione del rischio viene inquadrata nel tema più generale dello sviluppo e progetto di una macchina quindi nella parte di progettazione e pianificazione e progettazione di una macchina la valutazione del rischio deve essere un elemento fondamentale durante tutto il percorso per identificare i pericoli quindi valutarne l'entità, la pericolosità e poi adottare misure per ridurre il rischio quindi se guardiamo un po' più in dettaglio questi tre elementi il primo passo è appunto identificare pericoli identificare rischi sulla macchina quindi analizzare tutte le modalità operative della macchina come l'operatore interagisce con la macchina e andare appunto a identificare i punti di rischio i possibili pericoli che l'operatore incontra sulla macchina questi vanno valutati in termini di entità del danno e probabilità che il danno si verifichi e a quel punto si può passare ad adottare delle misure per ridurre il rischio ridurre il rischio viene fatto in diversi modi il primo e fondamentale è la progettazione stessa della macchina la macchina per quanto possibile va progettata in maniera da eliminare alla fonte questi rischi quindi renderla meno pericolosa però per la natura dei processi produttivi certi rischi non possono essere eliminati semplicemente nel modo in cui è progettata la macchina quindi diventa necessario adottare delle misure tecniche per ridurre questi rischi ed è qua che entrano in gioco componenti sicurezza, dispositivi di protezione quando poi anche questi non permettono di eliminare completamente o ridurre in maniera sufficiente il rischio l'unica altra cosa che resta è informare l'operatore sui rischi residui in maniera che possa affrontare la macchina con consapevolezza dei rischi che sono possibili sulla macchina stessa il tema di nostro interesse è chiaramente oggi noi siamo fornitori di componenti per l'automazione delle macchine e quindi il nostro focus è sull'aspetto delle misure tecniche quindi come posso usare componenti di sicurezza dispositivi di protezione per ridurre il rischio sulla macchina quindi la tecnologia oggi ci mette a disposizione strumenti sia di monitoraggio, di valutazione e poi modi di agire sulla macchina per metterla in sicurezza abbiamo detto che prima una fase iniziale del progetto è identificare e quantificare i rischi le norme ci danno delle linee guida per appunto identificare e misurare i livelli di rischio l'analisi del rischio della macchina ci dice che livello di sicurezza dobbiamo raggiungere abbiamo anche bisogno di delle metriche per misurare appunto quello che chiamiamo il livello di sicurezza e per fare questo abbiamo fondamentalmente due norme la 62061 e la 3849 che ci danno due metri di misura entrambi abbastanza diffusi penso che tutti avrete sentito nominare il safety integrity level il livello SIL e il performance level le due misure, le due metriche più in parte si sovrappongono una è magari un pochino più orientata al dispositivo il performance level, il SIL è un pochino più orientata a livello di sistema e quindi di sistema completo di sicurezza ma entrambe ci permettono di misurare la sicurezza quindi riassumendo nella progettazione di una macchina fase fondamentale è valutazione del rischio quindi identificare rischi possibili e quindi in base a questo identificare anche la necessità di requisiti di sicurezza della macchina quindi cosa è necessario per mettere in sicurezza la macchina per quanto possibile la sicurezza va ottenuta in fase di progettazione quindi la macchina deve essere progettata in maniera sicura ma ove questo non è possibile la tecnologia ci viene in aiuto con la possibilità di adottare misure di controllo e di protezione vedete qua riassunto per comodità una parte fondamentale del quadro normativo con riferimento alla direttiva macchina e soprattutto le metriche di misura della sicurezza quindi il integrity level che parte dall'1 fino al 3 che è il massimo livello di sicurezza e il performance level dove si parte dal performance level A fino ad arrivare al performance level E che ancora una volta è il livello di sicurezza massimo per un sistema di automazione nel tema delle misure di controllo e sicurezza entriamo qua a parlare di sicurezza integrata perché sicurezza integrata? perché nel momento in cui io ho dei sensori che mi permettono di monitorare quello che succede della macchina devo poi tenere sotto controllo quello che succede valutare e agire l'azione avviene sui componenti del sistema in particolare componenti molto importanti per la sicurezza di una macchina sono gli azionamenti perché gli azionamenti insieme chiaramente ai motori a loro collegati sono responsabili per così dire di alcuni dei movimenti principali e spesso dei movimenti più pericolosi sulla macchina molto spesso il movimento che vogliamo monitorare e mettere in sicurezza è il movimento di un motore quindi quale posto migliore per avere questa intelligenza e questa possibilità di azione messa in sicurezza che averla sull'azionamento stesso che è già il muscolo che mette in movimento il motore e il posto dove devo agire per metterlo in sicurezza avere le funzioni direttamente integrate sull'azionamento a bordo dell'azionamento porta notevoli vantaggi perché permette di ridurre la complessità e quindi il costo del progetto ridurre i cablaggi è più semplice in fase di messa in servizio e cosa non trascurabile mi permette anche una maggiore velocità di attuazione perché sono già a bordo del dispositivo che devo mettere in sicurezza senza tempi morti di base di comunicazione o altri sistemi sovraordinati ti passo la parola Giulio se vuoi entrare un po' più in dettaglio su quali sono i vantaggi di un sistema di sicurezza integrato Sì grazie Andrea molto interessante questo cappello iniziale che hai fatto che ci permette adesso di entrare un pochino più nel merito di quella che è la progettazione della sicurezza integrata e soprattutto che cosa offre la progettazione della sicurezza integrata sicuramente offre semplicità ed economicità infatti come si può vedere anche dalla figura che potete vedere l'architettura tradizionale viene strutturata con l'utilizzo di un controllore esterno di sicurezza con alcuni componenti elettromeccanici per poter disaccoppiare l'azionamento dal motore e spesso ci sono soprattutto sensori aggiuntivi che vanno a fare il monitoraggio della velocità e della posizione con la sicurezza integrata invece si riduce drasticamente quelli che possono essere i costi e i tempi di progettazione nonché anche l'hardware di riferimento con l'STO si taglia in maniera sicura la coppia riferita al motore andando a eliminare quelli che possono essere i contattori esterni che prima abbiamo visto inoltre con l'aggiunta dell'opzione di sicurezza integrata si possono gestire le funzioni complesse di monitoraggio del moto del motore direttamente sull'azionamento andando a prendere come riferimento il feedback dell'encoder resistente sul motore mentre invece nel momento in cui dovessi avere delle architetture un pochino più complesse dove nasce l'esigenza comunque di avere un PLC di sicurezza l'integrazione delle funzionalità sono possibili utilizzando protocolli di comunicazione sicuri come ad esempio nel nostro caso il chip safe e l'ether cut safe ecco Giulio scusa se ti interrompo ma quindi allora ho detto che io facevo qualche incursione magari per farvi delle domande quindi se ho capito bene anche a beneficio di chi ci sta seguendo la vostra soluzione safety che proponete gestisce entrambe le cose a questo punto sia il movimento ma anche le funzioni di logica cioè non si rende più necessario avere il PLC di sicurezza esattamente diciamo che volendo possiamo integrare il tutto quindi le funzioni di sicurezza direttamente on board sulla scheda di sicurezza che viene montata direttamente sull'azionamento che va a fare l'acquisizione di tutti quei sensori safety che abbiamo visto anche prima questo ci permette di poter ad esempio integrare direttamente l'utilizzo delle funzioni safety sul drive gestire grazie al supporto del protocollo safe end at encoder certificati che ci danno e ci garantiscono la possibilità di raggiungere dei livelli di sicurezza SIL 3 PLE e le funzioni stesse di sicurezza che sono certificati anche loro all'interno della nostra scheda anche loro raggiungono un livello di sicurezza molto elevato quindi il SIL 3 PLE che in questo momento è uno dei maggiori livelli di sicurezza nell'automazione industriale la sicurezza ovviamente integra l'attivazione e il monitoraggio di tutte le funzioni di sicurezza delle funzioni di movimento utilizzando una rete sicura e riducendo drasticamente quelli che possono essere i cablaggi e di conseguenza aumentando anche la flessibilità tant'è vero che con il principio del Black Channel c'è la possibilità di far passare sullo stesso supporto Ethernet quindi sulla stessa comunicazione dati riferiti alla sicurezza e dati riferiti alle informazioni standard di movimento del processo della macchina stessa ok in questo modo le configurazioni di sicurezza complesse possono essere implementate direttamente sulla macchina andando a ridurre notevolmente quelli che sono i cablaggi e soprattutto non andando a modificare anche in un secondo momento la topologia esistente della rete tutto questo è possibile grazie all'utilizzo e all'implementazione che abbiamo sui nostri device dei protocolli di comunicazione sicuri quali il chip safe e l'ethercat safe ok parlando di sicurezza integrata facciamo possiamo diciamo così raccogliere e raggruppare tre macro famiglie e quindi funzioni di sicurezza legate all'asse fermo alla velocità e alla posizione riferiti all'asse fermo abbiamo il safe torque off con l'acronimo STO dove si impedisce la generazione di coppia del motore pur mantenendo il DC bus alimentato e quindi consentendo in caso di necessità un avvio rapido del motore o dell'applicazione che devo gestire poi abbiamo il safe brake control l'SVC l'acronimo SVC può essere utilizzato in combinazione con il set torque off per permettere il controllo sicuro di un freno elettromeccanico magari montato sul motore o anche esterno poi abbiamo il safe operation stop quindi l'SOS che mantiene energizzato il motore in una condizione però di fermo e monitorato in maniera in maniera sicura tutte queste operazioni consentono di poter attivare delle esecuzioni a macchina in movimento ok poi abbiamo il safe stop 1 quindi l'SS1 più conosciuto come l'SS1 che consente un arresto controllato del motore prima di togliere l'alimentazione tramite il safe torque off che abbiamo eventualmente visto prima e non per ultimo l'SS2 che consente un arresto controllato del motore seguito da una condizione di arresto operativo e sicuro poi abbiamo tutto ciò che è legato alla velocità e quindi il safety limit speed quindi l'SLS che va a controllare in maniera sicura la velocità del motore per mantenerla e controllarla entro un limite specificato questo ad esempio permette all'operatore di poter entrare in macchina eseguire delle lavorazioni senza dover necessariamente fermare la macchina avendo la garanzia che la macchina non superi quel limite di velocità che diventerebbe pericoloso poi abbiamo il safe speed monitor quindi l'SSM che fornisce un segnale di sicurezza che va a indicare che il motore funziona sotto un livello di velocità ben specificato il safe limit acceleration questa funzione di sicurezza va a monitorare in maniera sicura l'accelerazione del motore andandola a controllarla dentro dei limiti che sono ben specificati dalla norma o dall'esigenza della macchina stessa poi abbiamo l'SDI quindi il safe direction che va a controllare in maniera sicura la direzione del movimento ci sono delle condizioni tali per cui l'operatore può entrare ad esempio in una macchina solo se garantiamo che l'asse o il motore giri in un certo senso dopodiché abbiamo l'ultima macro famiglia legata alle funzioni di sicurezza di posizione quindi il safety limit position quindi l'SLP che va a monitorare la posizione assoluta del motore per evitare che questo si muova al di fuori di un intervallo o di un'area ben specificata per cui per rispondere a te Alberto alla domanda che mi ha appena fatto le funzioni di sicurezza possono essere tranquillamente integrate dentro le nostre apparecchiature e gestite localmente sul drive non per ultimo visto che parliamo di sicurezza tutto il trasferimento di dati sicuri da e verso magari device esterni come possono essere un controllore di sicurezza esterno deve avvenire assolutamente in maniera sicura e poi ci sono altre funzionalità anch'esse molto utili come ad esempio il controllo a due mani che va a controllare in maniera sicura l'applicazione contemporaneamente su due pulsanti e non per ultimo il safe emergency stop il classico SS che va a monitorare in maniera sicura il pulsante di arresto di emergenza della macchina stessa a questo punto rilascio un attimo la parola ad Andrea per quello che è la parte relativa agli ingressi e alle uscite della scheda safety sì per completare un po' la risposta alla domanda di Alberto abbiamo visto in dettaglio varie cose che si possono fare direttamente integrate sull'azionamento per monitorare il movimento del motore e intervenire entrare e rimettere il sistema in sicurezza nel caso in ogni caso in cui il motore dovesse andare fuori controllo quindi con le funzioni di monitoraggio della velocità o anche semplicemente in fase preventiva per mettere il motore in uno stato sicuro di safe torque off o safe operating stop quando magari viene aperta una protezione per accedere a parte della macchina durante la monotenzione o la messa in servizio e quindi aumentando la disponibilità della macchina e quindi con grandi vantaggi produttivi però come dicevamo prima i sistemi di sicurezza integrata si stanno evolvendo e quindi non c'è più solamente un focus sul dispositivo singolo ma anche la possibilità di aumentare la scusate la flessibilità per permettere di fare logiche di sicurezza più complesse direttamente a bordo dell'azionamento per questo molto spesso moduli di sicurezza come il nostro direttamente a bordo dell'azionamento mettono a disposizione funzioni già preconfezionate di monitoraggio del moto che si basano possono essere fatte utilizzando l'encoder motore che il drive già usa per controllare il motore ma è possibile poi connettere altre periferiche è possibile connettere altri encoder perché magari l'encoder motore non è un encoder di sicurezza non è sufficiente per raggiungere il livello di sicurezza quindi può essere necessario ridondarlo oppure perché si vuole un sistema di feedback che sia direttamente sulla meccanica invece che solamente a bordo del motore abbiamo poi la possibilità di avere ingressi ed uscite sicuri quindi con tutta la ridondanza hardware del caso per raggiungere un performance level e o un SIL 3 ancora una volta direttamente a bordo del modo di sicurezza sull'azionamento oltre a questo per aumentare la flessibilità abbiamo anche a disposizione delle funzioni logiche quindi quando e vedremo più avanti il software che viene messo a disposizione per configurare un drive di sicurezza abbiamo la possibilità di parametrizzare le funzioni di sicurezza ma se vogliamo fare qualcosa di un po' più complesso tipo ad esempio come suggerito dalle immagini qua sulla slide coordinare la sicurezza dei due dispositivi quindi quando metti in sicurezza ad esempio un drive servo di una certa parte di macchina far fermare anche il ancora una volta in sicurezza l'inverter che muove la lama sulla stessa parte di macchina posso fare senza bisogno soprattutto su macchine semplici senza bisogno di mettere in campo un PLC di sicurezza con tutti i costi e la complessità che questo comporta posso fare la logica direttamente a bordo del drive utilizzando porte logiche anche queste sicure certificate che mi permettono quindi di combinare tra di loro appunto le funzioni di sicurezza esattamente Andrea per cui tutto quello che abbiamo visto adesso cerchiamo un attimo di vederlo nella filiera di uno stabilimento dove ci sono processo e produzione che vanno a braccetto quindi in un sistema complesso come quello che facciamo vedere nella nella slide abbiamo gruppi di taglio dei forni dei caricatori dei pick and place dei conveyor insomma una serie di applicazioni molto differenti da loro e diversificate diversificate anche con quelli che possono essere i rischi e le esigenze delle funzionalità safety di unione di quelle tant'è vero che in un processo complesso possiamo avere rischi legati al taglio all'impigliamento alla folgorazione all'urto scottature insomma sono molto molto diversificate andiamo fondamentalmente a capire e a mettere a confronto e quindi entriamo un pochino più nel merito di quello che è anche il titolo del nostro incontro di oggi e a mettere a confronto la struttura tipica safety da quella che noi chiamiamo ottimizzata quindi fondamentalmente in un sistema abbiamo inevitabilmente dei PLC che gestiscono delle logiche macchina abbiamo come abbiamo visto anche prima dei sensori safety che circoscrivono quelle che possono essere le aree di movimento di accelerazione di posizionatore quelli che abbiamo visto fino adesso questi sensori devono essere in qualche modo acquisiti per mezzo di hardware che provvedono a fare l'ingresso e quindi la gestione di questi di questi di questi device devono essere elaborati con una logica le funzioni che abbiamo visto prima e devono essere diciamo così gestite con dei moduli di uscita che vanno a pilotare la funzione di sicurezza verso il controllo del motore per quanto riguarda invece a confronto la struttura safety ottimizzata abbiamo sempre i nostri sensori di sicurezza distribuiti nel campo con la differenza che viene tutto integrato e portato a bordo della scheda safety integrata direttamente sull'azionamento per cui c'è un grosso alleggerimento di quelli che sono i prodotti e il numero degli articoli impiegati per gestire la medesima cosa per cui possiamo parlare di integrazione possiamo parlare di flessibilità in quanto gestisco l'ingresso la logica e l'uscita e soprattutto possiamo garantire quello che è la certificazione del sistema e ovviamente del risultato e del prodotto facciamo ancora un confronto per capire meglio quella che è la struttura tradizionale per cui abbiamo nel nostro impianto potremmo avere dei relè di sicurezza all'interno del quadro elettrico che sicuramente devono essere in qualche modo cablati perché bisogna i sensori di sicurezza in qualche modo devono essere gestiti con degli ingressi e delle uscite ovviamente aggiuntive dobbiamo gestire e cablare i sensori gestire e cablare gli attuatori andare insomma a acquisire via cavo ma soprattutto con dei dell'hardware fondamentalmente tutto ciò che fa parte del nostro sistema per quanto riguarda la struttura safety ottimizzata possiamo innanzitutto i sensori safety riportarli come abbiamo visto direttamente sulla scheda perché ne ha le capacità hardware e logiche per poterli riportare direttamente lì poi grazie ai basti campo di cui abbiamo parlato anche prima abbiamo la possibilità di eliminare e alleggerire notevolmente i cablaggi ok di conseguenza andiamo a eliminare quelli che possono essere gli hardware riferiti all'acquisizione di questi device andiamo a eliminare i cablaggi dei sensori degli attuatori dei apparecchiature che danno la gestione della velocità e l'eliminazione di quelli che possono essere i relais temporizzati quindi la struttura cambia notevolmente rispetto a prima tutti i nostri sensori vengono riportati direttamente sulla scheda che li gestisce a 360 gradi e la comunicazione col nostro PLC di macchina continua ad avvenire per mezzo appunto dei basti campo safety come potete vedere la struttura si è notevolmente alleggerita parlando di safety non possiamo che non parlare di trasduttori abbiamo prima fatto riferimento a quello che può essere un trasduttore safety and that piuttosto che la necessità perché l'applicazione lo richiede di più encoder oltre a quello montato sul motore ci può essere esigenza di avere dei trasduttori montati sulla meccanica di riferimento tutti questi encoder in qualche modo devono essere gestiti e quindi si apre il mondo legato a quelli che possono essere gli adattatori encoder gli adattatori per gestire questi questi device quali sono però i benefici di una safety integrata con il nostro sistema beh allora innanzitutto la possibilità della grazie alla gestione del doppio encoder posso gestire l'encoder direttamente montato sul motore e eventuali altri trasduttori che l'applicazione richiede che siano essi rotativi o che siano essi ad esempio lineari per evitare e alleggerire quelli che possono essere i dubbi come si può vedere nella vignetta dell'operatore abbiamo creato anche dei cavi precablati e preconnettorati che possono sicuramente ridurre oltre che ottimizzare i tempi di esecuzione ma ridurre la possibilità di errore con la gestione poi degli encoder safety possiamo eliminare quelli che possono essere secondi encoder di macchina e avere un grado di un livello di sicurezza elevato quale il SIL3 PLE gestendo direttamente l'encoder end up ad esempio montato sul motore tutto questo non fa altro che portare quella che è una maggiore efficienza una maggiore produttività ovviamente pur garantendo l'obiettivo principale che è la sicurezza entriamo un pochino più nello specifico delle applicazioni non a caso è stata scelta un cinema o un teatro da questo lungo lockdown abbiamo tutti voglia di uscire di ritornare alla normalità però dobbiamo ad esempio in un sistema in un ambiente come può essere quello di un teatro abbiamo parliamo di sicurezza e dobbiamo affrontare il tema della sicurezza ci sono tantissimi sensori safety legati a quelli che possono essere diversi tipi di motorizzazioni possono essere servo ma anche asincrone e tutte quante necessitano di un livello di safety molto elevato anche perché sovente ci sono delle movimentazioni e sotto magari c'è il pubblico per cui è estremizzato all'ennesima potenza la funzione di sicurezza tant'è vero che come si può vedere anche dalla vignetta ci sono automazioni legate a funi che muovono fondali piuttosto che si pari impianti scenografici che possono essere luci argani ma anche persone quante volte abbiamo visto negli spettacoli rivolare appunto questi acrobazie con questi personaggi tutto questo vuol dire safety tutto questo deve essere in qualche modo gestito quindi in primis dobbiamo raggiungere un livello di sicurezza molto molto elevato ci sono delle necessità che impongono l'impiego di device quali encoder rotativi o lineari supplementari per aumentare questo questo grado di sicurezza ok c'è la necessità di dover gestire ad esempio dei freni di sicurezza e quindi la classica funzione sbc che abbiamo che abbiamo visto prima piuttosto che funzioni di sicurezza legate al movimento e quindi la limitazione della velocità piuttosto che l'interdizione a una area prestabilita tutto questo può essere integrato direttamente sulla scheda safety montata sull'azionamento cambiando scenario cambiando settore andiamo un pochino più nel nostro se vogliamo quotidiano con sistemi di taglio dove fondamentalmente ci sono tutta una serie di i nostri bei sensori safety dobbiamo garantire un grado di protezione sulla un livello scusate di protezione elevato relativo alla gestione del sector cough e bisogna affrontare problematiche legate un eventuale blocco di materiale eventualmente una rottura di una lama che portano l'operatore a dover intervenire direttamente in macchina e sovente però questa macchina non può essere fermata perché a monte a valle continua il suo processo produttivo per cui grazie alle safety integrate possiamo gestire le funzioni e i sensori sicurezza aumentando la produttività grazie alla riduzione dei tempi di fermo macchina garantendo quindi funzionalità legate al controllo di movimento del motore stesso piuttosto altri tipi di controllo come possiamo vedere l'SLS l'SOS l'SS1 l'SO2 quindi tutto questo ci fa fondamentalmente riportare tutto quanto sulla scheda integrata con conseguente riduzione di quelli che sono i dispositivi e soprattutto garanzia di un'integrazione di sistema e un livello di sicurezza elevato andiamo in un altro caso tipico che è il pick and place dove ci sono movimenti di oggetti arrivo di oggetti e con un operatore che magari deve lavorare perché deve scaricare e caricare determinate deve fare delle operazioni sulla sulla macchina stessa anche qua riportiamo quelle che possono essere i benefici della sicurezza integrata con quelli che possono essere le funzionalità safety legate ad esempio a questo mondo e quindi parliamo ancora una volta di safe torque off che impedisce quindi la generazione di coppia al motore il controllo del freno o la necessità di intervenire e spostare muovere una scatola un pallet come si può vedere e devo essere sicuro che il motore non parta e soprattutto che il freno che ho agganciato sia monitorato in maniera sicura altra tipica funzionalità safety è l'SOS e quindi continua non posso spegnere tutto devo quindi mantenere il motore energizzato ma avere la garanzia che il motore sia fermo così come entro in un'area determinata pur mantenendo la macchina in movimento e devo essere sicuro che la velocità non oltrepassi il limite pericoloso che potrebbe in qualche modo rompere la catena del safety oppure rispettare quelle che possono essere le aree di controllo di posizione assoluta per cui l'operatore può accedere a quell'area perché è garantito che il motore non non oltrepassi quel parametro così come il safe emergency stop che è la pressione del fungo di emergenza c'è uno stato di allarme viene premuto il fungo di emergenza e quindi questa funzionalità può essere gestita tutte queste funzionalità possono essere gestite direttamente sulla nostra scheda safety abbiamo visto alcuni esempi ce ne sono tanti altri tutti quanti vengono riportati come abbiamo visto fino adesso su quella che è la sicurezza integrata nei nostri azionamenti sicurezza integrata che però deve essere gestita infatti Giulio volevo proprio chiederti questo ecco mi hai anticipato perché appunto le funzioni disponibili sono moltissime quindi volevo proprio chiederti che tipo di sforzo è necessario fare e se esistono dei tool di configurazione ma ecco ho visto proprio adesso la slide che ne stavi parlando perfetto lo sforzo è circoscritto e per rispondere lascio la parola ad Andrea perché alla fine è anche giusto che lui lavori un pochino quindi lascio la parola al massimo esperto sì grazie Giulio ma come dicevamo funzioni anche complesse di sicurezza direttamente a bordo dell'azionamento si possono fare cose davvero sofisticate però questo non vuol dire che farle debba essere complicato perché innanzitutto la cosa comoda è che è possibile fare tutto direttamente a bordo del software che già normalmente viene utilizzato per la messa in servizio dell'azionamento quindi configurazione messa in servizio dell'azionamento c'è solitamente un software dedicato nel nostro mondo si chiama Connect molto simile a software simili di altri competitor è un software molto molto semplice intuitivo nel momento in cui ho funzione di sicurezza a bordo del drive c'è una sezione di sicurezza che chiaramente è un pochino circoscritta perché ha bisogno di appunto degli elementi di sicurezza quindi c'è tipicamente una gestione utente con password di accesso in maniera che non sia possibile poi sul campo manomettere le configurazioni di sicurezza senza avere le credenziali ma le funzioni sono già tutte preconfigurate quindi non c'è codice da scrivere non c'è bisogno di imparare un linguaggio di programmazione semplicemente seleziono da un menu le funzioni che mi servono e poi vedete delle immagini qua sullo schermo con dei semplici menu a tendina vado a selezionare configurare ingressi uscite parametri della funzione eccetera la stessa cosa se voglio fare un po' di logica semplice aggiungo delle porte logiche vado a configurare ingressi uscite tutto è molto semplice dopo il sistema mi guida in tutta quella che è la fase di configurazione quindi innanzitutto prima devo configurare le mie funzioni poi c'è una fase di test anche questa assistita dove vado a verificare che le funzioni effettivamente raggiungano l'effetto desiderato sulla macchina e alla fine poi il sistema mi aiuta anche nella generazione di un report perché altro elemento molto importante della sicurezza è che tutto deve essere adeguatamente documentato tipicamente un sistema di configurazione della sicurezza genera un report genera anche una come chiamiamo a volte una firma digitale quindi una codifica che mi rappresenta in maniera unifica univoca la mia configurazione in maniera che quando poi succede qualcosa sul campo la prima cosa che faccio è andare là e verificare che la firma digitale del sistema sia ancora quella e quello mi dice subito se qualcuno in qualche modo ha manomesso la configurazione del sistema o si è rimasta quella originale con cui ero uscito dalla mia fabbrica quindi riassumendo abbiamo fatto una panoramica abbastanza estesa sulla sicurezza la sicurezza e sicurezza funzionale e sicurezza integrata si è evoluta per permettere di fare cose sempre più sofisticate in termini appunto di misure di sicurezza sulla macchina qual è l'obiettivo di fare cose complesse è che più il mio sistema di sicurezza è complesso tipicamente più mi permette di mantenere operativa la macchina anche in condizioni che richiedono una maggiore interazione dell'operatore mi viene in mente l'esempio tipico di una macchina di produzione che lavora magari con materiale continuo tipo carta o lamiera in cui c'è sempre una fase molto manuale di inserzione e introduzione del materiale nella macchina che richiede notevole interazione da parte dell'operatore in mancanza di funzioni di sicurezza complesse questo è uno start and stop continuo con grande perdita di tempo la presenza di funzioni tipo safety limited speed safety limited position permette di mantenere la macchina operativa mettendola comunque in una condizione sicura per l'interazione dell'operatore e quindi aumentare la disponibilità e la produttività della macchina e questo si ottiene con appunto sistemi di sicurezza sempre più integrati a bordo dell'azionamento con grandi vantaggi in termini di complessità costi anche velocità di reazione e con poi l'integrazione quando il sistema l'architettura di sicurezza è complessa anche interazione eventualmente con sistemi sovraordinati PLC di sicurezza eccetera utilizzando basti comunicazioni sicuri o meglio protocolli sicuri tipo SIP Safety Safety over EtherCAT ProfiSafe su quelli che sono già i bus di campo standard per la comunicazione nella macchina